Ultimi giorni prima del voto e il sindaco Antonio Battista, candidato naturale al secondo mandato per la città di Capobasso, utilizza queste ore per lanciare i punti forti del suo programma nel segno della continuità. Ci sarà sicuramente la continuità, l'agenda di Capobasso ha ben chiaro lo spessore del voto anche di questa tornata elettorale, ecco perché siamo convinti di esporre un puntuale programma per il momento elettorale e poi diventerà programma di governo. Sfide ambiziose ma di cui questa città non può non raccogliere, raggiungeremo gli obiettivi così come abbiamo raggiunto gli obiettivi in questi cinque anni. Per Antonio Battista proseguire con ciò che si è fatto significa dunque raccogliere i frutti di quanto seminato in questi anni di ristrettezze e difficoltà congiunturali. Ma dovrà necessariamente guardare al futuro l'impegno a realizzare una quattrocorsia insieme alla regione Molise, insieme ai governi che si andranno a succedere nei prossimi mesi e nei prossimi anni, un lavoro da fare di concerto con tutte le forze economiche e sociali di questo territorio. Infrastrutture ma anche cultura, tradizioni per valorizzare quel turismo che ormai è fatto e accertato può essere la via di scampo dalla morte demografica e territoriale. Partiremo soprattutto dall'ambiente, ripartiremo dai tratturi, dal turismo, la messa in rete in modo particolare di quelle che sono le potenzialità di questo territorio, turismo lento e filiera agroalimentare di cui abbiamo delle eccellenze nel Molise che non vengono valutate e non vengono valorizzate. Lo faremo attraverso il nostro sportello turistico che nascerà presso l'edificio di via Roma oppure presso il circolo sannitico e sarà quello il momento cruciale di diffusione degli interessi e soprattutto di promozione.